bene direi che possiamo iniziare buongiorno 9 47 del 23 11 vediamo in alto sinistra le performance della giornata bitcoin che rimbalza più 2,33 rimbalzino del gatto morto per adesso come si dice crudoil più 1 15 il dax invece arriviamo agli indici azionari territorio negativo con l'italia che fa peggio meno 0,51 poi abbiamo l'oro che ancora sta sotto i 1.800 e il btp che guadagna lo 0,09 con uno spread in contrazione dell'1,40 per cento sui 193 punti base ieri avrete seguito immagino oltre la nostra diretta delle 9 45 siamo stato anche su classe smbc quindi abbiamo parlato abbastanza lungo ieri dell'impostazione tecnica dei mercati della resistenza che abbiamo sui 24.900 punti preceduta da quella intermedia sui 24.650 che ieri è stata superata un paio di volte qua vediamo il grafico a 5 minuti una prima volta è stata superata nel pomeriggio intorno alle 16.50 e poi di nuovo più tardi dopo le 19 siamo andati sopra alla resistenza per poi avere il pullback questa mattina con una discesa una correzione in questo momento siamo arrivati fino al 14.04 e adesso il Fuzzimib sta provando a risalire un pochino la china comunque per il momento la resistenza è stata rotta c'è stato il pullback siamo tornati sotto al livello ma il prossimo traguardo dovrebbe essere 24.9 attenzione sempre al fatto che 24.9 lo ribadisco è proprio lì ad un soffio e qua vediamo il grafico settimanale che questo massimo qui questo esattamente quindi poco oltre 24.650 sul grafico settimanale è proprio una sfumatura come si vede la differenza non è tantissima e qua poco oltre però si tratta sicuramente di un livello significativo tra l'altro dove si era formato nel maggio del 2022 quindi quest'anno anche un kira versa del ribassista e la contrazione di volatilità che vediamo a ridosso di questo fascio di resistenza è comunque in vita alla prudenza per cui non abbiamo segnali multi day sono i segnali multi day sono molto limitati se vado in condivisione un attimo su quello che è il portafoglio azionario giornaliero e vediamo di recuperarlo se riesco a mostrarlo eccolo qua dunque azioni taglia questo è il portafoglio dovreste vederlo mi dice che la condivisione è in pausa in realtà no riproviamo datemi conferma se vedete il foglio excel per cortesia perché zoom sta facendo un po l'ebiza almeno mi dice che la condivisione non sta funzionando non ancora infatti mi dice che la condivisione in pausa non so per quale motivo proviamo a rifare l'ex novo nuova condivisione no non ha voglia di prendere il foglio excel prende solo il visual trader come come condivisione quindi vabbè della racconto a voce per chi è cliente insomma la situazione la conosce chi non è cliente abbiamo due soli titoli long multi day che sono cnh comprata 13 22 e intesa san paolo comprata 1 1,8158 stop 2 12 e 36 per intesa san paolo stop profit a 14 43 quindi 1 euro e 20 sopra il prezzo di acquisto per cnh che continua a comportarsi bene e gli unici due segnali nuovi di acquisto sono su ferrari a 2 12 e 2 stm a 30 38,0 75 per il resto non abbiamo segnali di acquisto multi day quindi siamo alla finestra vediamo aspettiamo wait and see come si dice mentre operatività intraday ieri ho comprato leonardo andata target con hft flow scanner ho comprato anche amplifon non è andata target o quantomeno non l'ho chiusa ieri in tre day l'ho lasciata aperta e l'ho chiusa questa mattina piccolo guadagno ma comunque chiusa in guadagno anche amplifon mentre ho comprato questa mattina saras ed erga sempre con hft flow scanner e poi vedrò alle 10 dalle 9 45 le 10 cosa ci sarà in cima al ranking e andrò probabilmente a comprare anche qualcos'altro appunto tra le 9 45 e le 10 adesso vi faccio vedere il ranking proprio della hft flow scanner se zoom mi asseconda nelle condivisioni andiamo in condivisione dell'hft flow scanner ecco adesso dovreste mi dice che tutto ok dovreste vederlo questi erano i flussi dalle 9 05 alle 9 45 praticamente con saras 9 05 l'orario di partenza fino al 9 45 quando l'ho visualizzato saras primo titolo con maggiori flussi seguito da erg prismian a 2a enel eni e via di questo passo adesso andiamo a impostare il dalle 9 45 alle 10 andremo a vedere aggiorniamo tra pochi minuti quale che sarà il il ranking definitivo dell'ultimo quarto d'ora per il momento dalle 9 45 9 54 ultimi 9 minuti abbiamo i flussi che si sono indirizzati su bami e su bpa e vediamo anzi no perché sta completando l'aggiornamento quindi in base a avrei dovuto aspettare un attimo a parlare che arrivassero i flussi che venissero calcolati correttamente sai per saras e bami ecco quindi abbiamo comunque gli energetici ancora in cima agli ai flussi saras rimane con parecchi flussi anche negli ultimi nove minuti seguita da bami di per fine ecobank interpump banca mediolanum e poste bene torniamo a noi tra l'altro come sottolinea anche milano finanza ci sarà una giornata abbastanza densa di di dati quest'oggi in attesa dei verbali del funk quindi vedremo che cosa accadrà un po al nostro listino se riusciremo a riaccelerare e andare sopra tornare sopra le resistenze dopo le prese di profitto che abbiamo visto questa mattina l'importante è che tengano i 24 mila punti come ho già sottolineato anche ieri mattina nel corso della diretta di classe CNBC se avete qualche domanda qualche titolo che volete analizzare nel frattempo vi dico che intorno a mezzogiorno saranno online tutte le offerte per quanto riguarda il black friday visto che mi è stato chiesto ieri adesso vi preparo anche il sito dove vi mostro dove dovrete andare a cercare per chi è interessato a tutte le offerte appunto del black friday vediamo se intanto è arrivata qualche domanda ital gas bene andiamo a vedere ital gas a livello di a livello tecnico come siamo messi eccoci qua ital gas eccoci beh ital gas sta proseguendo il suo trend rialzista di breve ha superato questa resistenza che era sui 5,36 ne ha già superate due queste che sono state che ho evidenziato sul mio grafico 5,07 quindi primo livello secondo livello 5,36 abbiamo un terzo livello di resistenza qua sui 5,70 con questo doppio massimo forse resistenza più impegnativa di tutte soprattutto perché ci sta arrivando si sta avvicinando lì per comprato quindi credo che questo possa essere il target di arrivo di breve 5,70 di ital gas poi attenzione perché qua potrebbe essere un po più complicato rispetto alle prime due resistenze riuscire a superarlo chiaro che nel momento in cui dovesse riuscire a superare anche 5,70 il titolo avrebbe spazio campo libero dopo non ci sono grosse resistenze c'è questa resistenza intermedia sui 6,04 e poi spazio per andare a chiudere il gap tra il 23 maggio e il 24 maggio quindi per il momento diciamo che l'impostazione fino ai 5,70 mi aspetterei che ital gas ci arrivi senza grossi pullback Pirelli e Brembo viene chiesto ancora vediamo Pirelli eccolo qua Pirelli invece sta ritracciando qui ha fatto un key reversal ribassista lo vedete questo nuovo massimo accompagnato da una chiusura in ritracciamento che ha preceduto questa ulteriore piccola correzione sta comunque per il momento consolidando sopra quest'area ha formato un supporto sui 4,05 per cui chi è long secondo me il stop profit va messo sotto i 4,05 e chi è flat qui potrebbe esserci un buon rapporto rischio rendimento consentendo di stoppare la posizione molto vicino al prezzo attuale però preferirei sinceramente comprarla più sulla forza Pirelli che non sulla debolezza vicino al supporto almeno io entrerei forse più al superamento dei 4,25 che non sul pullback poi Brembo vediamo come è la situazione anche su Brembo non è che proprio ancora meno buono mi piace ancora meno rispetto di Pirelli qua c'è stato il key reversal ribassista eccolo qua vedete sempre un bel segnale da guardare soprattutto quando si verifica ve l'ho già spiegato tantissime volte e vedete che quando ricapitano questi segnali confermano tutta la loro bontà key reversal ribassista in fascia di ipercomprato di breve con RSI sopra 80 segnale potentissimo e infatti qua ci stava lo short su Brembo segnale di short dal giorno successivo quindi in open 11,80 11,13 il prezzo attuale e già qua qualcuno si poteva portare a casa da 11,80 a 11,13 un po' di pagnotta vediamo se c'è qualche altro segnalazione dunque superare il prezzo di entrata non è 213,30 adesso vediamo se 200 sì 213,213 ah no per l'arrotondamento sì sì secondo me per l'arrotondamento si ha ragione a volte i PS con il ticker minimo vanno un po' arrotondati altre cose da dire se ci sono altre domande volentieri altrimenti vi faccio vedere al volo il portale dove dovrete andare a vedere per chi è interessato il portale robot-advisor.it ma comunque manderò anche il link all'interno delle chat e sui social con tutte le promozioni qua c'è lo shop e con l'e-commerce dove andare a trovare tutte le promozioni che troverete saranno completate entro le ore 12 con i vari corsi, con software, i report eccetera eccetera quindi robot-advisor.it e poi la voce shop e troverete tutte le offerte per il Black Friday fino al 30 di novembre se c'è qualche altra domanda Saras acquisto 1.28.45 a target già all'1% ottimo HFT ha funzionato bene anche oggi e quindi non può che farmi piacere a questo punto io mi concentro anch'io sul trading che vado a fare le mie operazioni manuali prima di andare a completare a supervisionare le offerte per il Black Friday vi do appuntamento a domani mattina vi condividerò la registrazione tra poco grazie a tutti e buon trading